Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto, a San Vito, precisamente zona Lido Bruno, via Vascelli. Come vedete, grazie al faretto della telecamera, il buio imperversa regna sovrano. Stiamo parlando di una zona in prossimità di un centro abitato, in prossimità di una fermata dell'autobus. Beh, la selva oscura di Dante Alighieri, Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Penso che ogni commento sia scontato. Ogni comune ha i suoi Dante, anche noi. Oltre Dante Capriulo. Oltre. Però questo è appunto uno scorcio del nostro quartiere. Questa è via Vascelli, una via della zona Lido Bruno, molto popolata, ci sono molte abitazioni private e abitate. È un centro abitato che appunto dà un po' di luce ad alcune fermate dell'autobus. Questa è una strada che risulta strada pubblica, anche se dai verbali del nostro comune e della nostra giunta potrebbe essere una strada privata. Già il fatto che c'è una fermata dell'autobus la dice lunga sulla necessità che sia illuminata. Le persone non devono camminare con le torce in mano, con le candile? No, tra l'altro c'è anche il rischio dei canirendaggi. Quindi molta gente è stata assalita in questi tratti di strada dai canirendaggi di sera, ma anche dalle auto. Le bici hanno problemi a circolare. Insomma, una situazione di degrado in un quartiere comunque ad alta densità di popolazione degna di questi nostri politici. Ebbè, l'appello all'amministrazione comunale, all'assessore ai lavori pubblici, perché l'assessore al ramo, Lucio Lonocce, e qui i cittadini della zona, giustamente, si sentono trattati da cittadini di serie B o serie C o serie D. Come si può dare loro torto? L'evidenza è sotto gli occhi di tutti. Pensate al rischio randaggi, pensate all'emergenza sicurezza, all'emergenza criminalità. Lux Fiat, assessore Lonocce.